10 anni, 11 anni secondo me è qualcosa di meno comunque facciamo 12 a un certo punto noi andavamo sempre il primo maggio a questo boschetto del Mizzio si va in questo boschetto e a un certo punto c'è un rappo con cui spaccavo le frasi un rappo è toscano puro un legno un legno lungo lo tenevo così lo portavo giù per spaccare le frasche liberarmi il sentiero cercavo di fare l'esploratore e c'è la Dario dietro che cercava pruni o comunque qualcosa del genere ne more pruni a un certo punto gli faccio Dario ma sono te no? mi giro di scatto per vedere dove era c'è il rappo in legno che gli arriva di oh madonna nerdente e glielo spacca la cosa che io ero talmente come si può dire spaventato e anche come si dice? amareggiato peggio terrorizzato no poi ora mi viene a mente un senso di colpa a palma sì 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 ora poi mi viene a mente e che io quando tornai dai genitori ma com'è successo? io non lo so cosa si inventò? non mi ricordo più però si inventò una azata e poi dopo mortificato ecco esatto ero mortificato proprio perché in cascò ragazzo era troppo sbaglio eh ho capito ma io mi sentivo un colpa di cazzo tiragnoto gli ho visto un pezzo di dente cascà era orpa mia ma poi sanguigno anche in genere